Salve padrone dei portali, mi chiamo E.O.N. e sono qui per guidarti in un viaggio fantastico. Benvenuto nelle Skylines. Un mondo magico di prodigi ed avventura. Protetto dai più grandi eroi di tutti i tempi, gli Skylunders. Per molto tempo ho avuto il compito di vegliare sugli Skylunders e di guidarli, ma questo incarico è passato a te. E ora tu hai trovato la Swap Force. La Swap Force era uno speciale team di Skylander che aveva giurato di difendere le Isole Nubi Aperte, dove sorge un vulcano magico. Ogni cento anni, quattro antiche creature note con il nome di Elementali combinano i propri poteri dentro al vulcano, scatenando una tremenda eruzione che rigenera tutta la magia delle Skylines. Ma dove c'è una grande magia, c'è sempre un grande pericolo. Durante l'ultima eruzione, gli Elementali vennero attaccati dai servitori del buio. Nel momento del bisogno, gli Skylander giunsero in aiuto. Dopo un'epica battaglia, gli eroi si trovarono intrappolati sulla sommità del vulcano. Travolti dalla magica energia dell'eruzione, gli Skylander acquisirono un nuovo incredibile potere. Trasformandosi nella Swap Force. Ma l'esplosione li portò anche molto lontano dalle Skylines. Fino a te. È giusto in tempo. Le Skylines hanno bisogno del tuo aiuto. Una grande avventura ti attende, padrone dei portali. Guarda. Ammirate l'eruzione del Monte Nubi Aperte, meraviglia. Magia e avventura vi aspettano. Oh, dammi retta, Ugo, sarà un'esperienza fantastica. Lo so, Flynn. Stai per assistere in prima persona a qualcosa che non si vedeva da centinaia di anni. Giusto. Ho comprato questo cappello ricordo del vulcano. Quello è Flynn. Fammi posto. Oh, salve, cari. Ti mancavo già? A dire il vero, e per quanto mi costi ammetterlo, ecco io... Ah, il cappello! Devo andare. Adios, fantastico cappello del vulcano. Bon voyage! Oh! Cos'era quello? Devo avere le traveggole. Per un attimo mi è sembrato che fosse... Un pollo gigante! Sei uno Skylander? Eh... Beh, no, non proprio. Cioè, li conosco, ma... Oh no! Ci hanno trovati! Ascolta, la mia casa è in pericolo. Se davvero conosci gli Skylander, devi aiutarmi. Beh, in teoria sarei in vacanza, ma non mi tiro mai indietro di fronte al pericolo. Pericolo... Il pericolo vince! Da che parte andiamo? Dentro al vulcano. Là potremo asseminarli. Beh, non era proprio quello che mi aspettavo. È tutto ok. Solo a strada. Fidati. Beh, d'accordo allora, ma reggiti forte, volpina! Stai per assistere a qualcosa di incredibilmente fantastico! Boom! Inclina il muso verso l'alto! Oh! Ehi, volpina! Non ho proprio idea di dove sto andando! È il momento, padrone dei portali! Attira e attacca! Ok, sono arrivati gli Skylander! Boom! Preparatevi allo spettacolo! Per le penne di mille draghi! Un vero Skylander! Non credo ai miei occhi! Attento! La mia nave! Quella era la mia parte preferita! Usa il pulsante attacco per togliere di mezzo i rottami! Ehi, Skylander! Ti dispiacerebbe buttar giù dalla mia nave tutti quei rottami? Oh no! Sono i gribble baroni dell'aria! Servirà una strategia vincente! Shonto! Fate scendere dalla mia nave quegli orrendi cionotti! Troppo vicino! Troppo vicino! Scendi! Scendi! Oh! 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 Non fermarti! C'è un'altra uscita che passa dal nucleo del vulcano! Oh oh! 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 È il vostro capitano che vi parla Ci troviamo qui Per le penne di mille draghi stai bene Non ho mai visto uno schianto del genere Lo so, incredibile, vero? In realtà era una manovra segretissima e incredibilmente complessa Per fortuna sono il miglior pilota di tutte le Skylands Capitan Flynn, al tuo servizio! Boom! Bada, boom! Puoi ripetere, signorina? Tessa! Mi chiamo Tessa Ma certamente, quindi non vedo dove sia il problema, Tessa Hanno attaccato il mio villaggio proprio prima della cerimonia del vulcano Non è lontano, vieni a vedere, ti faccio strada Ehi, 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 signorina, frena! Io non vado da nessuna parte senza la mia nave Un buon capitano non lo fa mai Ehi, Skylander! Da questa parte! Sì Non ci posso credere, sto parlando con un vero Skylander! Wow! Ok, Tessa, ricomponiti Ascolta, dobbiamo andare subito a Tana del Bosco Quei Gribble che ci hanno attaccato stanno causando problemi di ogni sorta Abbiamo bisogno di te Te l'ho detto, io non abbandono la mia nave Ma guardala Temo che non tornerà mai più la stessa Fai in modo che il suo sacrificio non sia stato vano Non preoccuparti Farò in modo che venga rimorchiata fino in città Tu va avanti, Skylander Segui il sentiero e arriverai dritto a Tana del Bosco Usa il pulsante Salto per scavalcare gli ostacoli Gli Skylander dell'elemento fuoco sono più forti in questa zona Metalli preziosi Ti prego Skylander, fammi uscire da questa gabbia Wow, uno Skylander in carne ed ossa Tessa ti ha trovato davvero allora Oh oh, questa cosa non mi piace Grazie per avermi tirato fuori di lì Skylander Soffro di claustrofobia Oh no, è una di quelle porte da battaglia Ci terrà confinati qui finché non avrai sconfitto tutti i nemici Ah, come quei nemici Stendi gli Skylander Usa i pulsanti a sacco per sconfiggere i chomp La densità del blusso tecnico è un campo vetorial Un risultato polarizzante Urrà! Questo posto... Oh no! Quiskers! Come hanno fatto a catturarti? Ah, quei Gribble la pagheranno! I Gribble stanno imprigionando quelle povere creature Cos'hanno intenzione di fare? Beh, non glielo permetterò Tu prosegui verso Tanna del Bosco, Skylander Io cercherò di liberare quei poveretti Gribble svitato Gribble svitato Sì Ricorda che puoi cambiare Skylander in qualsiasi momento Padrone del portale Un risultato polarizzante Oh cielo Un vero Skylander Siamo salvi Se allenti quel gaccio Dovremmo farcela uscire dalle gabbie Ti ringrazio tantissimo Skylander Ti aiuteremo a liberare quei altri povere creature Idrò Oh 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 Grazie per la visione!